422 Race Amici di 422 Race, benvenuti alla conferenza stampa ufficiale di Marcello Fugli e Marco Bonanomi Uno tornato dall'America, Marco Bonanomi, andato sulla Indy Light, sugli ovali, pericolosissimo L'altro alla mia destra, campione italiano, IFM Io, Marcello, dimmi qualcosa Beh, sono contento di essere qua anche a Gia Monza a vedere un po' di derapate in pista Perché non sei qua a fare le derapate? Non lo so, mi ha chiamato E invece, sempre ritorna su di me, Vladi, ridammila uno Marco Bonanomi che è appena tornato invece dall'America, questo adesso fa l'americano Ha preso scarpe nuove, magliette in America What? Sorry? What do you say? Non parli inglese anche, perché non è americano, questo è inglese No, fratello... No, fratello... Tutto bene, tutto bene Sì, sì, tutto bene, mi sono andato molto bene Sì, è andato anche forte, Marco? Sì, è andato forte, sia sull'ovale, c'è stato un buon feeling, anche sul circuito, per Grand Park, siamo andati bene, ho fatto il miglior tempo Adesso sto aspettando un paio di settimane che, aspettando il contrattivo che arriva Il ragazzo ha bisogno, aiutatelo Nel senso che, ti ricordi che l'avevamo fatto già un'intervista di aiutateli? Sì, mi serve una petizione, prossimamente vi do il link Sì, almeno io eravamo andato al capolettino Marci, invece, l'anno prossimo? Se avete qualcosa anche per me, io non è che di segno Schifo, l'altro, io ho tre soldini da parte anche per me Io sto parlando con Ivone per l'anno prossimo per il GP2, vediamo Noi dobbiamo scendere Noi dobbiamo scendere perché devono salire questi, no, continua a riprendere Vieni qua Cioè, adesso tu praticamente hai bisogno di questo polo, il palco qua Quello di Marco Solo Marco, sì Ma perché? Lo segui tu adesso? È vero che li fai da manager? Sì, ma mi ha deluso un attimino, però adesso proviamo No, no, no Infatti è il junior team italiano Marco, diciamo che io non avevo mai speso una parola per un pilota Perché, essendo sempre via, ho seguito veramente poco quello che è successo negli ultimi anni L'ho fatto per Marco, ha fatto un test, ha impressionato parecchio gli uomini Audi E speriamo che prima o poi ci sia la possibilità anche per lui di... Cioè, che abbia la possibilità di fare una carriera fortunata come è stata la mia Anche senza... Dimenticando la Formula 1 che non è la sola categoria che esiste nel mondo delle corse Se lo dice Dindo Capello Buon audio a tutti Grazie Dindo, ti lasciamo il tutto allora Avete magari da lavorare Grazie, ciao amici del sito 4, 2, 2, 3 RACE